E' contenta di com'è andata? Se devo essere onesta ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere e guidare la mia città perché penso che sia la cosa che ogni persona che fa politica vorrebbe fare, guidare la propria città però sicuramente è stato un risultato che molti non si aspettavano non ci davano al ballottaggio, arrivati al ballottaggio pensavano che arrivassimo al 32-33 invece si è riusciti a prendere tutti i voti dei centristi un 43% di quelli di Grillini e alla fine il PD è stato salvato dalla sinistra estrema Che fa a mo? Ora faccio un'opposizione ancora più dura di quella fatta negli ultimi 5 anni forte anche dei consensi comunque che abbiamo raggiunto Va bene, in bocca al lupo Grazie, lunga vita al lupo